Ciao a tutti da Maurizio, benvenuti su Recensito. Oggi ci rivolgiamo a tutti quelli che vogliono percorrere pochi chilometri ma perché no anche il giro del mondo. Ebbene sì, tra le chiacchiere dei moderni Globetrotter e ospite fisso qua a Recensito, il marchio Clover che è da sempre un marchio che punta sulla sicurezza e che fornisce capi molto ricercati con tanti contenuti tecnici e allora benvenuta a lei, anzi a loro perché trattasi di un completo e parliamo di Crossover 3WP Airbag e in particolare parleremo della giacca. Una giacca a quattro stagioni con tre strati, abbiamo lo strato esterno, l'imbottitura e poi anche la membrana che andremo a vedere davvero interessante per come è stata pensata. Allora giacca quattro stagioni quindi va bene davvero per tutti i tempi da quelli più caldi perché lo vedremo è una giacca molto molto e sottolineo molto areata e poi è una giacca anche molto calda quindi va bene anche quando fa più freddo. Cose particolari, subito i numeri, sette prese d'aria e poi dodici tasche quindi davvero molto completa. Poi quest'oggi per la Crossover 3WP abbiamo deciso di, anzi ho deciso di dividere in due macro argomenti ovvero le prime sono le caratteristiche più importanti e poi il frutto del mio test e quello che ho potuto provare analizzando il prodotto. Intanto dicevamo giacca 100% impermeabile perché lo vedremo anche dopo, tutta la parte esterna è stata trattata quindi è idrorepellente e poi abbiamo anche la membrana che potremmo mettere all'esterno. Tre strati intercambiabili, cosa significa? Che noi possiamo usare la giacca così ma poi possiamo anche scambiare i vari strati quindi possiamo usare l'imbottitura con il keyway quando andiamo a passeggio, possiamo usare soltanto la parte esterna oppure possiamo mettere appunto la parte, la membrana possiamo metterla sopra per rendere la giacca completamente impermeabile e far sì che non si bagni. Altro argomento molto importante le protezioni, massimo livello perché abbiamo il livello 2 sia per le spalle che per i gomiti. Poi discorso schiena ci arriveremo dopo ma inizio ad anticiparlo, abbiamo due possibilità possiamo scegliere il paraschiena tradizionale o lo abbiamo detto airbag, possiamo anche montare l'airbag che vediamo qua alla mia sinistra. Poi escursione, escursione termica andiamo dai 35 gradi ai meno 10, l'abbiamo detto è una giacca a 4 stagioni quindi copre davvero tutto, abbiamo 45 gradi di escursione che possiamo coprire con questo prodotto. E poi airbag ovvero la giacca è predisposta per montare l'airbag, in che modo? Le cinghie passano all'interno della giacca così siamo sicuri che anche in caso di caduta non verranno strappate e diventa un corpo unico con la giacca quindi davvero una giacca pensata per la sicurezza. E finalmente arriviamo all'oggetto del mio test, cosa ho potuto riscontrare? Intanto una grande coibentazione, una giacca molto calda trattiene molto bene il calore e poi è pratica perché abbiamo tantissime regolazioni, è molto curata e abbiamo anche la possibilità di personalizzarla. Partiamo dall'alto e scendiamo verso il basso, intanto cosa abbiamo? La regolazione sul collo, vedete, come già su altre giacche Clover, la possibilità di spostare l'automatica e quindi avere il collo molto più chiuso per l'estate quando non abbiamo il salvocollo e un collo invece molto più aperto per quando arriva l'inverno quindi siamo protetti sul collo. Sempre guardando la parte anteriore notiamo subito due cose, intanto abbiamo le prese d'aria, ne abbiamo nella parte alta, guardate, posso decidere di non far tanto caldo, apro solo la parte alta e poi con gli automatici vado a bloccarla. Poi scendiamo nella parte più bassa, fa ancora più caldo, abbiamo delle grandi prese d'aria, guardate, eccole qua, che coprono praticamente, se andiamo a unirle a quelle della parte alta, coprono praticamente tutto il petto, ma la figata, permettetemi qual è, è che queste prese d'aria si possono anche staccare, guardate, geniale questa idea, si staccano le tasche, però la genialata qual è stata? Che potete staccare le tasche, potete riporle nella tasca posteriore, ma perché no, se non volete perdere capacità di carico, potete vincolarle, guardate qua, sui fianchi, praticamente potete spostarle e portarle sui fianchi, davvero un'idea geniale. A proposito di tasche e di prese d'aria, ecco, abbiamo la possibilità di avere intanto una presa d'aria anche in questo senso, ovvero io voglio tenere la mia tasca montata, posso aprire qua e mi arriva comunque dell'aria senza andare ad aprire tutta la tasca e poi abbiamo anche questi pratici porta, diciamo, porta documenti dove posso mettere la via card, il telepass e sono davvero molto comodi e intelligenti perché anche mentre sono in sella con una mano posso raggiungerle. Lasciamo la tasca sul tavolo e proseguiamo, scendiamo verso la parte più bassa della giacca, abbiamo come da tradizione tasche a carica dall'alto perché Clover fa giacchi con questo tipo di tasca che a noi piacciono molto perché siamo sicuri di non avere la perdita di oggetti, mentre con le tasche laterali si ha sempre un po' l'ansia di perdere qualcosa. Tasche molto comode, guardate abbiamo la presa in gomma molto ampia, anche la carica è bella ampia quindi riusciamo a entrare agevolmente con la mano, alcune giacche della concorrenza invece hanno una tasca un po' più piccola e col guanto non riesco ad entrare. A proposito di tasche, notiamo una grandissima capacità di carico perché guardate, intanto abbiamo la possibilità di avere questo, ovvero il soffietto, la tasca si apre e contiene degli oggetti molto grossi, addirittura anche degli obiettivi di macchine fotografiche, quindi davvero oggetti importanti e poi se non è sufficiente possiamo anche aprire i due automatici che abbiamo qua. Guardate, adesso dopo magari la mettiamo sul tavolo, però abbiamo, eccoli qua, due automatici che mi permettono di aumentare la capacità della tasca di contenere gli oggetti senza andare a tirare il tessuto della giacca che diventerebbe più stretta se non avesse queste accortezze, queste rifiniture. Per quanto riguarda il tipo di regolazione, l'abbiamo detto, parte alta il collo e poi abbiamo anche le regolazioni come su altre giacche di Clover con queste fettucce, due sugli avambracci e poi guardate, ne abbiamo anche due belle grandi sui fianchi. Per quanto riguarda la parte anteriore abbiamo concluso e andiamo sulla parte posteriore. Parte posteriore che mi permette di dire due cose. La prima, guardate, abbiamo sempre alla ricerca del dettaglio, abbiamo questi soffietti che mi permettono di recuperare in agilità, quindi quando vado a prendere il manubrio la giacca non tenderà ad alzarsi ma tenderà ad aprirsi, quindi brava Clover. E poi sulla parte posteriore cosa notiamo? Una enorme presa d'aria, guardate, è davvero grandissima presa d'aria che se utilizzeremo l'airbag ovviamente andrà un po' a mancare e la sua potenza andrà leggermente a diminuire. Ecco, vedete, abbiamo gli automatici anche all'interno per bloccare questa, ovviamente non rimane svolazzante, non potrebbe essere su una giacca Clover che comunque è molto curata e possiamo anche metterla all'interno così, guardate, se uno ha fretta non vuole tanto, può metterla, può riporla all'interno oppure può chiuderla con i suoi automatici. Parte posteriore, notiamo un'altra cosa che apprezziamo tantissimo, è una bella tasca per contenere. Le cartine non si usano più perché non mai si usa il navigatore, però perché no, magari dei piccoli documenti, dei fogli oppure i documenti della moto. Quindi brava Clover, come avete visto è una giacca davvero molto molto curata. E concludiamo il capitolo regolazioni e prese d'aria con le maniche perché nascondono un'interessante trovata, ovvero abbiamo, guardate, una doppia regolazione. Abbiamo la possibilità di aprire la manica in modo da avere una grande apertura, in modo da anche inserire un guanto e poi andarla a richiudere. Andiamo a richiuderla e abbiamo anche un automatico che mi blocca la cerniera, quindi grande cura al dettaglio, ma questa apertura si trasforma in una presa d'aria andandola ad aprire all'incontrario. Vedete? Rimane chiusa la manica, ma mi permette di avere un po' di aria, anzi tanta aria all'interno della manica. Per quanto riguarda la regolazione del polso abbiamo la regolazione col velcro e in questo caso forse avremmo preferito un po' più di velcro soprattutto in questa parte in modo da essere più sicuri. La chiusura è comunque salda, precisa, ma un po' di velcro in più ci avrebbe fatto piacere. E concludiamo con la parte alta parlando del collo che è comunque molto morbido, però se vogliamo mettere un meno, infatti qua abbiamo messo più e meno, ovvero il collo è sì morbido però avremmo preferito magari l'interno in neoprene ancora più soffice, però diciamo che comunque il livello di comfort rimane alto. Peso, ecco, una giacca che comunque è molto complessa, tantissimi particolari, protezioni, ma pesa 2820 grammi, quindi un buon peso. Tenuta aria e acqua, voto più anche in questo, rifiniture al top, membrana impermeabile, traspirante laminata. Eccola qua, abbiamo fuori, la giacca è comunque trattata idrorepellente, quindi resiste comunque all'acqua, però se vogliamo una massima copertura andiamo a mettere nella parte più esterna, andiamo ad indossare la nostra membrana che comunque mantiene anche un po' di tepore all'interno, quindi sicuramente una giacca perfetta per ogni clima. Capacità di carico al top, l'abbiamo detto, abbiamo tantissime tasche, anche molto capienti, quindi ottimo. E poi ecco, le tasche base abbiamo la doppia espansione, l'abbiamo già anticipato. Ci rimane da dire due cose, intanto airbag, eccolo qua, airbag ad attivazione meccanica, abbiamo detto che le cinghie scompaiono all'interno della giacca, quindi massima sicurezza, questa diventa sostanzialmente uno zainetto, perché le cinghie andranno a scomparire all'interno e quindi diventa un zainetto molto pratico. Lo zainetto che va poi collegato tramite questa cinghia a una cinghia che va posizionata sulla moto, in modo che qualsiasi caduta scivolata noi siamo protetti, perché ricordiamocelo, l'airbag protegge molto più di un paraschiena circa 6-7 volte e resiste, e quindi ha una capacità di assorbire l'urto e di non trasferirlo al motociclista di circa 35 volte. Cosa ha di particolare questo airbag? Il comfort, perché è comunque, lo vedete, è molto morbido, quindi è come non indossare sostanzialmente nulla, comunque è uno zainetto molto piccolo, cinghie sono protette, prese d'aria, cosa significa? Che se noi utilizziamo un airbag a corpetto, ovviamente perderemo le prese d'aria, mentre con questa soluzione, con le cinghie che vanno all'interno, le prese d'aria anteriori, rimangono potenti quanto senza airbag. E poi, altra cosa molto interessante, non c'è il cambio della taglia. Questo cosa vuol dire? Che se io vado a indossare la giacca, la provo, e questo consigliamo sempre di provare le giacche, i caschi, qualsiasi indumento da moto prima di acquistarlo, se io provo la giacca senza la parte interna, senza le membrane, senza l'imbottitura e poi la indosso invece anche completa, indossando l'airbag non ho problemi con la variazione della taglia. Quindi un'ottima soluzione. Airbag che è ovviamente, non ovviamente, questo è un airbag certificato, perché alcuni non lo sono, e N16214 ed è di livello 2. Però per chi non volesse comprare l'airbag c'è sicuramente anche il paraschiena. Paraschiena che è di livello 1 o livello 2, potete scegliere. E adesso arriviamo ai prezzi che ho nascosto qua sotto, perché sono tanti, così ho un piccolo prememoria. Airbag costa 399,90€. La ricarica, perché c'è la ricarica? E' un'altra cosa che non ho detto, la forza di questo airbag è che se cado, non mi succede niente, mi salvo, l'airbag non si rovina, io posso ricaricarlo se ho con me la ricarica e posso ripartire. E quindi la ricarica costa 29€. Poi abbiamo in paraschiena a livello 1 a 39€, mentre in livello 2 andiamo a 79,99€. E poi il pantalone che fa parte di questo completo, tra l'altro a proposito del pantalone che ho provato, l'ho trovato molto caldo e resiste anche molto bene al vento. Quindi anche questo è un ottimo prodotto. Il pantalone è 319,90€. Poi il guanto che non abbiamo qui adesso con noi, perché l'abbiamo usato e l'abbiamo lasciato nel bauletto della moto, ma lo vedete nelle riprese, viene 74,90€. E poi finalmente l'oggetto del giorno, ovvero la crossover 3 WP airbag viene venduta a 529,99€. Che pensate, per una giacca comunque di 3 strati, 4 stagioni, è davvero un prezzo interessante. Non mi rimane che salutarvi, ma prima vi consiglio di andare a visitare il sito www.clover.it, perché non è un sito qualsiasi con tante informazioni sui prodotti, ma ci sono anche tantissimi video, illustrazioni, vi spiegano come funziona il prodotto, come va utilizzato e quali sono i suoi punti di forza. Poi io vi invito a continuare a seguire i nostri canali social, quindi Facebook, Instagram, i nostri canali video YouTube, sia auto che moto. E poi se volete acquistare il nostro merchandising andate sulla nostra pagina, sul nostro shop di Amazon. Io ho finito e adesso vado a farmi un altro giro in moto, perché ho una mezz'oretta libera e poi farò un altro recensito. Ciao a tutti, alla prossima! Ciao a tutti!